Ciao, oggi vi voglio presentare questa bellissima griglia rivestita in pietra, vedete c'è scritto rivestimento in pietra, che può essere usata su tutti i forni, anche su tutti i grigli, scusate, su tutti i fuochi, mi sto confondendo, su tutti i fuochi anche in induzione è un lavabile in lavastoviglie. E adesso ve la faccio vedere, bene, vedete che ci sono i manici a parte, perché se volete metterla nel forno potete anche metterla nel forno, ovviamente senza i manici che sono in silicone, eccoli qua, ci sono i manici. Questo è un bellissimo prodotto, cuoce veramente molto bene, quindi io ve lo consiglio, è presente nel catalogo di settembre di Avon, già stasera io faccio un ordine, quindi se volete approfittarne me la potete ordinare, costa 39 euro, e può essere anche un regalo carino da fare a qualcuno, se no una cosa utile, perché grigliare è sempre d'attualità, non si fanno le grigliate soltanto in estate, si possono grigliare carne, pesce, verdura, eccetera, e quindi un oggetto che in cucina non deve mai mancare, ed è sempre comodo. Come vi ho detto, è rivestita in pietra, vedete anche la parte di sotto, se a qualcuno interessa anche sapere com'è, e vi ripeto, questi sono i manici, i manici in silicone che si possono mettere o no a seconda dell'uso che ne volete fare. Bene, spero di avervi incuriosito, e aspetto i vostri ordini, per tutto il mese di settembre questo prodotto è disponibile, questa griglia appunto per mangiare sano, salutare, senza grassi, combattiamo il colesterolo, dai facciamo le brave. Bene, vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!